Molte manifestazioni in una per festeggiare questa seconda gara della stagione della categoria Juniores e come non ricordare anche i vari sponsor, tantissimi quelli che danno supporto al team Bottegone Cipriani e Gestri, ma andiamo a ricordare degli sponsor in particolare come il Palma, poi il servizio Autogru Zaghe, il Campaioli e poi i magazzini Mercerie. Questi sono gli sponsor principali che hanno dato il loro contributo per organizzare questa bellissima corsa quest'oggi. Si abbassa la bandiera a scacchi e partono in questo momento i 115 atleti per questa 54esima Coppa Piero Mugnaioni. L'anno scorso questa gara era stata caratterizzata dal maltempo, una pioggia incessante si era portata sul percorso di San Giusto e sull'arrivo di Via Cava. Quest'anno invece, anche se le previsioni hanno messo acqua, per il momento il tempo sta reggendo, quindi tutto a favore dei corridori. Per ritornare anche all'edizione passata, il vincitore dell'anno scorso fu Marchesini davanti al proprio compagno di squadra rossi. Arrivarono insieme dopo una bellissima fuga, mentre la volata del gruppo fu vinta dal corridore dell'Ubaldo Signori, Andrei Voicu. Ma entriamo in corsa, subito particolarità del percorso, non ci sarà solo la volata finale, ma anche tre traguardi a punteggio, rispettivamente al settimo, al quattordicesimo, al ventunesimo giro, con l'assegnazione dei punti, con cinque punti al primo, tre punti al secondo e un punto al terzo. Ci sono stati alcuni tentativi di attacco, ma nessuno è andato a buon fine. Ci riprovano in questo momento gli atleti della Campi Bisenzio, con il numero 63, proprio Alessio Zucconi, che in questo momento sta cercando un'azione in solitaria. Gruppo però che non lascia molto spazio, una cinquantina di metri il suo vantaggio, quindi non riesce per il momento a decollare l'azione di Zucconi, che quando siamo in prossimità ormai del primo dei tre traguardi volanti in programma, prova un'azione solitaria. Ma il gruppo, come vedete anche da queste immagini, viaggia sempre forte, compatto e non lascia molti spazi. Quindi sarà difficile quest'oggi riuscire ad andare in fuga, anche perché il percorso non lo permette. Siamo ormai in vista del primo traguardo volante, un uomo della Bottegone in testa. Si tratta di Nika, che in questo momento va a prendersi il traguardo volante. davanti a altri due suoi compagni di squadra, vediamo Cannavo e Pacinotti nell'ordine. Quindi se ne è andato il primo dei tre traguardi volanti con Nika, Cannavo e Pacinotti, che vanno a prendere punti preziosi. Cambia la situazione al comando. Dei 115 che sono partiti a questa 54esima Coppa, Piero Mugnaioni, organizzata dalla Cipriani e Gestri Bottegone, sono rimasti solo in 100 in gruppo, mentre qui si è diviso il gruppo e una buona parte di questi se ne sta andando. Sono in tanti davanti, abbiamo visto con il numero 46 Noletti della Romagnano, poi con il 76 Acco dell'Aquila, con il numero 45 Giannelli, sempre della Romagnano, con il 66 Marchini della Monsumanese, Lorenzini della Foscobessi, poi il 32 Bella Gamba dell'Ubaldo Signori, Mancini della Bottegone, poi Nika, sempre della Bottegone, continuando vediamo anche il numero 83 Friscia, poi con il 98 Pasquini, 82 Ciaccheri, con il numero 42 Tanni dell'Ubaldo Signori, poi con il 75 Capone, con il 95 Luisi, 60 Sannino, 69 Murtas e 70 Natali. In fuga in questo momento con un vantaggio 35 secondi ed eccoli che si ripresentano sul direzione di arrivo, trainati dal corridore della Bottegone, vediamo il gruppo che si sta riavvicinando e degli atleti che stanno cercando di rientrare. Qui è un atleta della Polisportiva Monsumanese, anche uno della Romagnano, gruppo trainato dalle ruote della Campi Bisenzio, che in questo momento sta cercando di riportarsi sotto una quindicina di secondi. Il loro svantaggio nei confronti dei 17 davanti, quindi hanno recuperato abbastanza e dal gruppetto di testa cambia nuovamente la situazione, se ne vanno in due. La coppia formata dalla squadra di casa del team Bottegone, Cipriane Geste, Francesco Mancini e poi dal corridore dell'Aquila Ganzaroli con il numero 83 Lorenzo Friscia. Quando mancano sette giri alla conclusione, ormai si entra nel vivo di questa 54esima Coppa, Piero Mugnaioni. Siamo nelle battute conclusive, vi ricordo un tracciato non molto ostico da un punto di vista altimetrico, ma molto difficile perché pieno di curve, quindi sempre da rilanciare l'andatura da parte dei corridori e quindi sarà difficile anche arrivare in fondo con le forze per poter disputare una volata per poter andare a vincere questa bellissima corsa. Gruppo che in questo momento transita alle spalle con un ritardo di 50 secondi mentre è cambiata la situazione al comando con sempre la coppia ovviamente formata da Friscia e da Mancini. Dietro si è formato un gruppo di 24 atleti. 24 atleti dove troviamo Giannelli della Romagnano, Raimondas, Rumsas dell'Ubaldo Signori, poi Ciaccheri della Aquila Ganzaroli, Marchini della Monsumanese insieme a compagni di squadra Murtas e Cavallini. Sempre della Romagnano anche Francesco Chesi, poi Davide Tani dell'Ubaldo Signori, Cannavò della Bottegone, Noletti altro atleta della Romagnano, Acco dell'Aquila Ganzaroli, Capone l'unico esponente della Ozzierese, poi Natali, Monsumanese, sempre della squadra di casa della Bottegone, Nica, della Fosco Bessi abbiamo Ottavi, poi Lorenzini, compagno di squadra di Ottavi, Luisi dello Stabbia, Bella Gamba dell'Ubaldo Signori, Baldini, poi seguire anche Linas Rumsas dell'Ubaldo Signori, con il 104 Castiello del team Vettorini e con il 98 Pasquini dello Stabbia. Davanti continuano le scaramucce per quanto riguarda gli atleti della testa, in questo momento è il corridore dell'Ubaldo Signori, Raimondas Rumsas, che cerca di attaccare mentre si è ricomposto il gruppo dei 24. In questo momento vediamo sempre Mancini nelle prime posizioni, abbiamo visto anche Noletti della Romagnano, e questi sono i 24 che adesso continuano ad avere un vantaggio stabile intorno al minuto primo. Sempre gli atleti del gruppo trainati dalle maglie, Bianco Verdi, della Campi Bisenzio, che cercano collaborazione, ma come vedete gli atleti della Bottegone e dell'Ubaldo Signori non danno Manforte perché non hanno nessun motivo di rientrare davanti. hanno delle belle rappresentanze e quindi non ci tengono a far rientrare i velocisti che sono rimasti dietro, come Niccolò Pacinotti della squadra di casa e come Nico Colonna dello Stabbia. Qui adesso la Monsumanese, quando siamo ormai nelle fasi conclusive, si sta organizzando con un treno, visto che siamo ormai al suono della campana, siamo all'ultimo giro con le maglie della Monsumanese in testa che stanno cercando di organizzare, come vi dicevo, un treno per poter riuscire a vincere questa 54esima Coppa. Piero Mugnaioni, la polisportiva Monsumanese che vede in Francesco Marchini un possibile velocista che potrebbe vincere questa gara quest'oggi, il gruppo dietro ormai si è rassegnato. Arrivati al suono della campana, il gruppo non ci sta più per andare a prendere i fuggitivi al comando e quindi sarà una lotta fra quei 24 e sarà interessante vedere se qualcuno riuscirà ad attaccare e ad uscire dal gruppo o se si arriverà in volata. Per il momento la Monsumanese in questi 2,9 km, vi ricordo il giro 2,9 km per un totale di 27 giri, 78 km e 300 metri. La gara di oggi, siamo all'ultimo giro. Fra poco, ed eccolo qua, triangolo rosso dell'ultimo chilometro con il numero 64. In questo momento è Federico Cavallini a fare l'andatura. Vediamo con il numero 66, Marchini, che si trova alle spalle del proprio compagno di squadra. Natali che adesso fa da ultimo uomo. Forse partiti un po' troppo presto. Gli uomini della polisportiva Monsumanese mancano ancora 800 metri all'arrivo. Linas Rumsas in terza posizione e poi vediamo anche Francesco Mancini dietro alle maglie della propria squadra della Bottegone con Nica in questo momento che cerca di portarlo fuori. Quindi due treni in contemporanea. Monsumanese, Bottegone. Iniziano le scaramucce tra la Bottegone, la Uvaldo Signori. Linas Rumsas cerca di tenere le posizioni e ci riesce. Mentre Nica con la ruota a Mancini cerca di portare avanti il proprio corridore. Anche gli uomini della Romagnano stanno risalendo in questo momento con Giannelli, Noletti e Chesi. Infatti sulla sinistra è la Romagnano che sta cercando di far risalire i propri atleti. Si sposta l'atleta della Monsumanese. Rimane da solo Marchini. Troppo presto forse per una volata a ranghi compatti. Siamo ormai sul direzione di arrivo. Ultimi 400 metri per decretare il vincitore. Attenzione Mancini è già in testa. Noletti sulla destra esce Francesco Chesi. Linas Rumsas sulla sinistra ma è Francesco Chesi che va a vincere questa 54esima Coppa. Piero Mugnaioni una bellissima volata quella del Massese che è andato a conquistare la sua prima vittoria da Juniors al secondo tentativo. L'ordine di arrivo che vede in questo momento Francesco Chesi primeggiare sul compagno di squadra Michele Noletti che gli ha tirato perfettamente una volata che poi ha portato il corridore della Romagnano a vincere. Terza posizione per Francesco Mancini il corridore di casa del team Bottegone. Quarta posizione per L'Ubaldo Signori con Linas Rumsas. Quinto il corridore della Fosco Bessi Ottavi Simone. Sesta posizione per il team Bottegone con Francesco Cannavò. Settima posizione per Lorenzo Friscia. Bravissimo il corridore dell'Aquila che dopo la fuga insieme a Mancini che è arrivato terzo sono riusciti a classificarsi nell'ordine di arrivo. Ottavo Lorenzo Luisi dello Stabbia Nono Iltian Nica del team Bottegone Decimo Francesco Marchini della Monzu Manese. Questo l'ordine di arrivo. Arrivano in questo momento anche gli atleti del gruppo con un ritardo di un minuto ed è stato veramente un bellissimo ordine d'arrivo nelle prime cinque posizioni cinque corridori del primo anno. Quest'anno gli debuttanti in categoria stanno dando spettacolo perché anche Luca Zullo della Bottegone nella gara di apertura in un primo anno intanto eccolo qua il vincitore della 54esima Coppa Piero Mugnaioni Francesco Chesi bellissimo corridore che l'anno scorso era anche nella squadra che poi ha portato il titolo italiano nella categoria allievi con Federico Monti intanto vediamo altre personalità come Maria Bruni anche il presidente provinciale Marco Boretti abbiamo visto una bellissima rappresentanza qui su Via Cava a San Giusto con la vittoria poi del corridore della romagnano Francesco Chesi che vi ricordo ha vinto davanti al proprio compagno di squadra Michele Noletti intanto ecco il terzo classificato un lottatore quello di oggi Francesco Mancini che dopo la fuga con Friscia è riuscito anche a conquistare la terza posizione quindi una bellissima gara per il corridore di casa al secondo posto sale in questo momento l'atleta della romagnano Michele Noletti che dopo aver tirato la volata il proprio compagno di squadra è riuscito a arrivare secondo mentre primo eccolo qua il vincitore Francesco Chesi che è riuscito a portare a casa una bellissima e stupenda vittoria ma andiamo ad ascoltare le dichiarazioni degli atleti nel dopo corsa Francesco Chesi vincitore della Coppa Mugnaioni Francesco una bella vittoria in questo inizio di stagione si è stato un grande successo secondo me più che altro non perché ho vinto io ma perché ho vinto la squadra romagnano abbiamo volato anche Noletti sul secondo grado del podio e abbiamo fatto un grande lavoro oggi Francesco nella fuga davanti eri uno dei nomi che comunque dovevamo tenere d'occhio perché insomma veloce sei veloce però non ti aspettavi di vincere sinceramente le sensazioni non erano delle migliori però si sa quando sei in corsa sento i cavalli quindi ci sta che essendo agitati ci sentiamo male poi dopo veramente si sta bene che facciamo ne vinciamo un'altra allora? abbiamo più di una senti sei anche uno degli atleti che comunque è sotto il mirino del CT della Nazionale insomma hai un po' di responsabilità anche sulle spalle responsabilità sì però cerchiamo di non pensarci perché la stagione è lunga e meglio portare i successi a chi la vuoi dedicare questa corsa? al mio compagno di squadra a tutta la squadra di sponsor e alla mia ragazza Michele Noletti secondo classificato è stato diciamo un ultimo chilometro difficile per voi? sì è stato molto duro intenso ci siamo trovati noi la nostra squadra abbiamo fatto il massimo per arrivare in fondo ci deviamo ogni attacco e per l'ultimo chilometro c'avevo un pochino meno di forza ho provato a tirare al massimo Francesco abbiamo fatto il primo e il secondo la Monsummanese già dall'ultimo giro aveva iniziato a fare un treno era pericolosa come squadra? sì eravamo molto guerriti nei loro confronti eravamo a cercare di tenerli d'occhio per l'ultima volata erano molto veloci però abbiamo avuto la meglio anche tu debuttante in categoria insomma chi ben inizia metà dell'opera? speriamo speriamo che continui così l'andata ora abbiamo fatto il primo e il secondo guarderemo domenica come va a finire Francesco Mancini altro debuttante in categoria un terzo posto bello però era difficile battere questa coppia romagnano sì sicuramente loro erano molto veloci erano ben organizzati io sono arrivato a un fondo che era un po' stanco ho fatto una bella fuga a metà gara e quindi complimenti a loro eri rimasto diciamo da solo nella fuga davanti per quanto riguarda la tua squadra quindi magari aiuto ce n'era anche poco rispetto a loro no avevo due compagni con me nella fuga decisiva però erano erano un po' stanchi poi da ultimo ho sbagliato anche un po' io a non aspettare non sono stato abbastanza freddo e quindi l'errore e la responsabilità me la prendo io comunque insomma un terzo posto una seconda gara Juniors sei primo anno è una bella soddisfazione sì sicuramente è una bella soddisfazione ma quando sei lì davanti a 50 metri all'arrivo ti vedi sorpassare insomma è un po'